Buongiorno dal Tg della mobilità. Questa sera stop dalle 21 e 30 sulla ferrovia Romalido tra le stazioni di Acilia e Colombo. Sono ripresi i lavori del fine settimana sui cavalcavia di Viale della Vittoria e Via Chierchia a Ostia e la linea Romalido ancora una volta fa spazio al cantiere. In alternativa ai treni è possibile utilizzare le linee bus 04, 06, 070 e poi dopo le 23 anche la linea notturna NME Piazza Venezia, stazione Colombo. Le altre notizie. 16 corse straordinarie verso il litorale del Lazio nei fine settimana per le ferrovie regionali. Lo prevede un accordo tra Trenitalia e la Regione. I 16 treni straordinari saranno attivi il sabato e la domenica, da oggi al 9 agosto, sulle linee FL5 Roma Civitavecchia, FL7 Roma Minturno e FL8 Roma Nettuno. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della mobilità.